Un gol all'andata e uno al ritorno, sempre nei minuti finali. La bestia nera del notaresco contro la vastese si chiama Jonathan Alessandro. Il 36enne attaccante, non al meglio della condizione, entra a 10 dalla fine e risolve una contesa destinata allo 0-0. Nel 4-3-3 di D'Addario trova spazio l'ex Stivaletta. Tra gli ospiti la novità riguarda l'assenza di esposito messo fuori causa da uno stato influenzale al suo posto pesce. Per il resto Massimo Epifani conferma il 4-2-3-1 con Maio al centro dell'attacco. Agli ordini di Castellone di Napoli, le due squadre danno vita subito a una gara animata, soprattutto per merito della vastese che già all'ottavo crea il primo presupposto per sbloccare il match. Errore in uscita della retroguardia rosso-blu che libera Lonzi in area di rigore ma la sua conclusione mancina è presa facile di Shiba. Due giri di lancetti a sbloccare l'incontro ci prova Stivaletta ma il suo tiro forte non inquadra lo specchio per un niente. A sottolineare le difficoltà del notaresco in questa prima parte di gara è il tiro sbilenco di pesce dalla distanza siderale. Scende l'intensità dei padroni di casa così in qualche modo il notaresco prende coraggio. Azione creata sull'asse di destra con Sorrini al cross per il solo Valenti ma il numero 10 da buona posizione sparacchia alto. Al 42esimo la vastese prova a complicarsi la vita. Altobelli perde un pallone nella zona mediana del campo dando in là la ripartenza di Pampano che arrivato ai 16 metri non ci pensa due volte. Spara verso la porta ma a salvare di Rienzo e la traversa. L'azione poi si conclude con un nulla di fatto. La ripresa non gode della stessa vivacità della prima frazione allora i due mister provano a mescolare le carte in tavola. Epifani richiama in panchina pesce per inserire scimia mentre da Derrio sceglie Ficara a fargli spazio a Lonzi. Al 18esimo la vastese pareggia il conto dei legni. È proprio l'ex fiugi da poco in campo che fa partire un sinistro micidiale ma la sfera si stampa sul palo alla destra del portiere. Alla mezz'ora è il turno anche di Dorato che prende il posto di uno spento Maio mentre sul fronte opposto esce Stivaletta dentro Alessandro. È proprio lui il protagonista di un episodio dubbio in area di rigore rosso-blu ma ad ampi gesti il direttore di gara facendo di proseguire. A provarci di più sono i padroni di casa che trovano il gol vittoria sul camonto del match proprio con Alessandro che all'interno dell'area di rigore trova una sorta di stop orientato e si ritrova davanti a Scebe e con un tocco sul primo palo sblocca la gara. Tredicesimo gol in stagione per lui il notaresco non ci sta e nei quattro minuti di recupero tenta l'assalto ma la retroguardia ragonese attenta e così al triplice fischio è festa grande in casa bianco-rossa per tre punti che significano aggancio al quinto posto per il notaresco. Un passo indietro rispetto alla sfida contro il Porto d'Ascoli ed ora la gara contro il fan è fondamentale per non perdere il treno dei play-off. Una partita intensa contro un'ottima squadra, penso che il notaresco negli anni abbia costruito sempre ottime squadre e quindi siamo stati anche agevolati, loro hanno avuto anche un turno infrasettimanale quindi sicuramente noi verso la fine avevamo forse qualcosa in più però devo riconoscere che il notaresco ci ha dato filo da torcere. Uno che ha fatto 13 reti, nonostante i suoi 36 anni, se c'è qualche problemino lo dobbiamo gestire però quando ce l'abbiamo sappiamo che abbiamo un'arma in più, non abbiamo solo in lui l'arma in più lo abbiamo con Stivaletta, ce l'abbiamo con Ficara e quindi quando hai alternative non cambi una punta per un difensore cambio una punta per una punta. Per quanto riguarda le altre situazioni non le dovete chiedere a me perché io faccio l'allenatore, l'allenatore è colui che gestisce il gruppo, tutte le altre problematiche io non le so, non le voglio sapere e non entro in merito. Solo se la scelta del campo era una scelta condivisa nel terreno di gioco. Io ancora me lo sta dicendo lei, quindi io non so neanche questo. Io ho finito ora la partita e sono contento di averla fatta qui in un campo che ha retto molto bene la giornata di pioggia perché ce l'aspettavamo pesantissimo e quindi anche chi lavora in questo campo ha fatto molto bene. per quello che sarà il futuro noi ci proiettiamo a Chieti e quindi il mio obiettivo è Chieti. Quello che succederà dopo speriamo che il Signore ci faccia ancora stare qui, però non lo sappiamo. Io credo che il primo tempo la scuola ha fatto una grande gara, il secondo tempo c'è stato un pochettino di più la vastezza sotto l'aspetto della pressione, però abbiamo dato anche il secondo tempo situazioni dove dobbiamo fare meglio nelle scelte delle giocate perché poi siamo arrivati tante volte potenzialmente a azione da gol. Il primo tempo l'abbiamo fatto tante volte, siamo stati poco bravi, diciamo così, per non dire egoisti, però credo che oggi la squadra ha fatto una grande gara. Nonostante avevamo tante defezioni, però dopo la partita di mercoledì se lo spirito è questo, come quello di oggi, l'allenatore è estremamente orgoglioso. Abbiamo perso, dispiace tantissimo perché mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per tutti quanti, però lo spirito è cambiato, la squadra oggi ha fatto una grande gara. Perdere così al novantesimo fa male perché abbiamo preso poi un gol di facile lettura, però quando tu non concretizzi tante situazioni che hai avuto e arrivi alla fine purtroppo il calcio poi è fatto così, ti punisce e abbiamo perso una partita che c'è tanto rammarico. Lei parlava proprio di finalizzare negli ultimi metri e è mancato in questo Esposito che si è fermato poco prima della partita? Vittorio è un giocatore fortissimo, importantissimo per noi, abbiamo cambiato anche modulo per trovare anche la squadra, oggi ci è mancato stamattina proprio con problemi influenzali e ci dispiace, però non è che manca Esposito che abbiamo perso la partita, abbiamo fatto una grande gara secondo me, però hai perso e purtroppo i dettagli nel calcio fanno una differenza e oggi i dettagli noi non siamo stati bravi.